Vladimiro, al secondo appuntamento firmato, targato Transanatolia, siamo oggi alla quinta tappa, come sta andando quest'anno? Molto bene, mi diverto, è molto bello anche quest'anno, sono ritornato proprio perché c'era questo cambiamento di itinerario, quindi non era una ripetizione ma posti nuovi, a me piace andare dove non sono mai andato e quindi ho visto tanti bei paesaggi. Belle location, per quanto invece riguarda la compagnia com'è? La compagnia è fantastica, ci sono sia i professionisti, quelli che credono di essere professionisti, quelli che invece non sono professionisti, però tutti piacevolmente insieme, io sono qui con Fiorenzo di Evasioni che ha curato il trasporto dei mezzi e anche l'assistenza a fine di ogni tappa. Compagni di giochi, compagni di squadra? Ma no, nessuno perché io vado sempre con la macchina fotografica, faccio anche le fotografie in prova speciale, per cui sto parecchio da solo.